In calo le infrazioni nel ciclo del cemento e dei rifiuti. Crescono invece gli illeciti nella filiera agroalimentare, i reati contro gli animali e soprattutto gli incendi. Primi segnali di calo e inversione di tendenza in materia di ecoreati ed eco-mafia in particolare. Il business dell'eco-mafia nel 2015 è stato di 19,1 miliardi, quasi 3 miliardi in meno rispetto all'anno precedente. L'Egambiente presenta eco-mafia 2016 le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia. La Puglia nella classifica generale dell'illegalità ambientale passa dal primo al quarto posto. Nel ciclo illegale dei rifiuti la Puglia scende al quinto posto con 457 infrazioni accertate. Nella nostra regione i sequestri effettuati dalle forze dell'ordine hanno riguardato sia le numerose discariche illegali di Eternit, telaterizi, pneumatici fuori uso, ma anche quelle di rifiuti solidi urbani a causa della loro cattiva gestione. C'è poi la dimensione transnazionale della Puglia, cerniera tra l'Europa, i Balcani e il Medio Oriente, che l'ha trasformata in una base logistica per traffici trasfrontalieri di rifiuti, soprattutto quelli diretti verso il sud-est Europa e l'estremo Oriente. Si tratta di rifiuti costituiti principalmente da rottami ferrosi, materiali plastici, rifiuti elettrici ed elettronici, carta, cartone e vetro che i trafficanti immettono nei circuiti illegali del riciclo. I numeri pugliesi del rapporto Ecomafia 2016 ci consegnano la fotografia di una regione in cui le illegalità ambientali sono in netto calo, dichiara Francesco Tarantini, presidente Lega Ambiente Puglia. Diminuiscono i reati legati al ciclo dei rifiuti del cemento, quelli contro la fauna, mentre preoccupano gli illeciti legati alla filiera dell'agroalimentare. Una inversione di tendenza dovuta sia agli effetti del nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla nuova legge sugli ecoreati, ma anche alla costante attività di controllo, contrasto e repressione delle forze dell'ordine e della magistratura, che sta giocando un ruolo importante, soprattutto sotto il profilo della deterrenza.